La Promoball si rialza dopo una serie di risultati poco convincenti e vince fuori casa a Curno contro la polisportiva Curno 2010 Volley. Il risultato è arrivato solo al tie-break, sebbene la squadra di Flero sia riuscita a tenere in mano il pallino del gioco per tutta la gara. Nel primo set le Fleresi partono bene con due ace di Papa, ma si fanno subito recuperare e sorpassare da Curno. Giacomini riporta in parità con un palonetto d'astuzia. La Promoball, con basa l'aria al servizio, mette la freccia e costringe il coach avversario il primo time-out della gara, sul 5-7. A parte qualche momentaneo calo in ricezione, sono le Tigri a condurre il gioco portando nuovamente l'allenatore Bergamasco a chiedere il suo secondo time-out sul 19-21. Un clamoroso errore arbitrale porta nervosismo tra le ragazze e Taramelli utilizza entrambi i suoi tempi in maniera ravvicinata sul 21-22 e sul 23-22 per aiutare le ragazze ad uscire da questo brutto momento. Un rocambolesco finale di set ai vantaggi termina 27-25 per la squadra locale. Nessun cambiamento per Taramelli nella formazione in campo all'inizio del secondo set, dopo un lungo scambio è Giacomini a mettere a terra la sua prima palla del set, da segnalare un cartellino giallo per Balestra durante un'azione particolarmente movimentata. Le Tigri prendono fiducia e macinano un buon gioco con una Giacomini inarrestabile sia da prima che da seconda linea. Sale e nervosismo nelle locali, tanto che guadagnano anche esse un cartellino giallo sul 5-9. Un buio improvviso riporta la situazione in equilibrio, momento in cui Taramelli gioca il primo tempo. Doppio cambio per le ragazze di Flero sul 13-15. Gasparini per Papa e di Giulio per Giacomini. Le ragazze della Promobol esprimono inizialmente un buon gioco ma le avversarie non demordono e si portano avanti 22-19. Papa e Giacomini tornano in campo con Papa a servizio che mette in difficoltà le Bergamasche costringendo l'annellatore di Curno ad utilizzare due timeout nel giro di pochi minuti, il secondo sul 22-23. Finale di set ancora combattuto punto a punto, 23-23 e 24-24 ma stavolta sono le Tigri a conquistare il risultato finale di 24-26. Al terzo set il risultato è fisso sull'1-1, palla al centro. Taramelli conferma la fiducia al sestetto titolare ma Papa parte subito con un errore al servizio. Aggressive fin da subito le giocatrici di Curno ma le Bresciane non si fanno intimorire e ingranno la quarta sul 13-12. Battono bene e sono molto attenti soprattutto a muro e sulla ricostruzione dei palloni toccati dal muro. Un falo d'attacco fischiato a Migliojkovic permette alle Bergamasche di provare a tornare in partita ma ci pensa Tomasi a fermare il break avversario sul set 27-13. Sul 9-16 Miliojkovic è sostituita da Zanetti che dà il suo buon contributo in ricezione. Poco altro da dire su un set completamente dominato dalle Fleresi concluso in discesa sul 25-14. All'inizio del quarto set le Bresciane partono in visibile difficoltà e sono richiamate subito alla panchina sul 4-0. Pian piano si riprendono e si fanno sotto con delle buone giocate anche se questo non basta con Taramelli che chiama nuovamente le ragazze al timeout sul 13-9. Dopo un errore in battuta che porta le Curnesi sul 17-10, Di Giulio sostituisce Papa. Il parziale pare la fotografia del terzo set a ruoli invertiti. La promobol sembra rialzarsi con Migliojkovic al servizio, inducendo Curno a richiedere timeout prima sul 22-15 poi sul 22-19. Il barrome di Speranza però si spegne con le locali che vincono il set sul 25-20 e riportano la gara in parità. All'alba del quinto set le Tigri si dimostrano subito combattive e si portano piano piano sul 4-8. Le ragazze di Curno cercano di non farsi del tutto sopraffare dall'esuberanza delle giovani, ma l'ago della bilancia pende comunque sempre verso Flero anche dopo il doppio cambio. Curno mette a segno poi il punto del 5-11 e prova a risalire per raggiungere le Tigri. Taramelli è costretto a spezzare il turno di servizio locale con un timeout discrezionale sull'8-11 e un altro sul 10-11. Un pallonetto di Marinoni riporta il servizio in casa a promobol e un attacco imprendibile ancora di Marinoni chiude il set e la partita sul tiebreak per 11-15. Un ottimo risultato fortemente cercato da parte della promobol che può guardare la classifica al campionato con una ritrovata tranquillità.